Abbiamo giocato a pari con una squadra che è un grande talento. Come ho detto prima, ci ha incontrato gli episodi, alla fine è stato bravo Moreno a mettere il prodotto. Direi che quello è stato un buon punto. Rifacendo in piena partita, capirebbe qualcosa? No, direi no, perché siamo stati avanti addirittura all'inizio, poi da un posto arrivano, potevano tornare in partita, e magari da tutto siamo arrivati a giocarci alla vita.